Ciao ragazzi, io sono Darkboy oggi video breve perchè ho trovato questa bottiglia che dovrebbe essere calciata da me io mi alleno con le bottiglie e oggi proveremo se è ancora buona proviamo uno no, è tipo ancora ok, abbiamo una bottiglia provo non che ho bambino per i tanto per i tanto per i tanto per i tanto per i tanti per i tanto non fa schifo perché l'acqua non fa mai schifo e poi non ha sapori ciò